Ciao a tutti da Tommy e bentornati a One Minute Music. So che siete già in piena febbre da shopping per il Black Friday, ma questa settimana non sono soli i saldi ad andare fortissimo. Preparatevi a ingranare la quinta con il nuovo singolo di Cosmo, Turbo. Marco Jacopo Bianchi non è sempre stato Cosmo. Iniziò a fare musica nel 2002 con i Drink to Me, elaborando uno stile fra rock ed elettronica, carico di bassi distorti e ricco di atmosfere colorate associabili a band come Animal Collective e MGMT. Il primo lavoro di Marco come Cosmo arriva nel 2013 con l'album Disordine, cantato in italiano e decisamente più incentrato su suoni elettronici e atmosfere da parti. La vera rivoluzione però arrivò nel 2016 con l'album L'Ultima Festa. Il singolo omonimo divenne un vero e proprio tormentone, aggiudicandosi l'altissima rotazione in tutte le radio nazionali e portando Cosmo in un lunghissimo tour in tutta Italia, oltre alla partecipazione al prestigioso Ziggert Festival di Budapest lo scorso agosto. Turbo è il suo nuovo singolo e oltre all'ormai rodata Forma Dance aggiunge campioni medio orientali non meglio identificati. Sappiamo però che farà parte del nuovo album Cosmotronic in uscita il prossimo 12 gennaio. Ascoltate il brano completo qui sotto. Ciao e alla prossima settimana.